Sì, sto abbastanza bene, mi è rimasto sotto la caviglia, si è gelato un po' però niente di grave, secondo me qualche giorno e sto di nuovo bene. Per venerdì? Sì, penso e spero di esserci, sì. Senti, una vittoria alla Fischio, questa è fondamentale perché contro una diretta concorrente, uno sconto diretto per la salvezza, contro una rimpescata che era partita anche forse leggermente prima nella fermata, però comunque con le stesse dinamiche, tre punti importantissimi. Sì, come hai detto te, tre punti importantissimi, dopo la sconfitta di Ponte d'Era, che secondo me non era meritata, era importante ripartire, l'abbiamo fatto alla grande, secondo me oggi abbiamo visto una fermata cattiva, aggressiva, siamo andati a pressarli alti, li abbiamo messi in difficoltà, in contropiede, abbiamo creato tanto, potevamo forse fare meglio l'ultimo passaggio sulla tre quarti nostra, potevamo fare un po' di più, però abbiamo creato le nostre occasioni, abbiamo rischiato il giusto e secondo me abbiamo portato a casa meritatamente tre punti oggi. Senti, su questo 4-3-3 praticamente ci deve stare sempre un esterno che praticamente si allatta un po', no? magari tu oggi a sinistra e maggio a destra, no? Più da sinistra un po' più pungente, poi maggio quando è passato a sinistra un po' più pungente maggio praticamente ecco, a destra c'è sempre qualcuno che si deve adattare, oggi si è adattato inizialmente lui, poi tu nel secondo tempo, non so se è giusto quello che vuoi dire. Sì, secondo me non è un adattamento, abbiamo caratteristiche diverse, il misto una domenica sceglie in base anche all'avversario come metterci, io a differenza di Matte sono probabilmente più un attaccante, lui è più esterno, è bravo nel dribbling e oggi sul gol i ragazzini Matte e Pinzi hanno fatto un'azione bellissima e sono contento per loro perché sono ragazzi forti, sono ragazzi che si impegnano, ogni giorno vanno a mille come tutti gli altri e sono contento che Matte si sia sbloccato.